Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. La battaglia legale per la separazione tra Ilari Blasi e Francesco Totti continua anche durante l'estate. Sono stati convocati i testimoni che dovrebbero parlare dei presunti tradimenti. La causa di separazione tra Ilari Blasi e Francesco Totti tornerà in tribunale entro la fine di settembre davanti alla giudice Simona Rossi e ai magistrati che ascolteranno i testimoni dei due ex coniugi. Le motivazioni che hanno portato alla rottura sono al centro dell'attenzione dentro e fuori dal tribunale. L'ex calciatore continua a sostenere che sarebbe stata la conduttrice a tradire per prima e per questo ha chiamato in causa il personal trainer Cristiano Iovino, primo nome sulla lista dei testimoni. Con lui Ilari Blasi avrebbe preso il famoso caffè di cui si è parlato nella docu intervista di Netflix. Ilari Blasi non è d'accordo con la versione del suo ex marito e ha ribadito che in realtà sarebbe stata la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi a portare alla rottura. La nuova compagna dell'ex calciatore è la testimone chiamata da Ilari Blasi in tribunale. Oltre a Noemi Bocchi e Cristiano Iovino sono attesi come testimoni anche Alessia Solidani, hairstylist amica della Blasi, Graziella Lopedota, storica manager della Showgirl, le sorelle Silvia e Melori Blasi. Alex Nucetelli, grande amico di Francesco Totti e un manager Mediaset di cui tui... Un'altra domanda.